credici c'è un punteggio lì che fa paura 120 ma cosa leggete come fai a rendere scusa comunque 120 sono le cistre quindi siamo 20 60 20 i suoi e tutto il mondo c'è il minatore cittadini ciao grazie c'è anche l'altro di paolo mi spiega il quaderno delle soffre per una nuova polentata altrettanto gustosa ora regna la calma ma tra circa 10 minuti un quarto d'ora vedrete un nutrito gruppo di ragazzini che si avventeranno sulla polenta come le api sul miele una giornata stupenda un sole incredibile un cielo terzo neanche l'ombra di una nuvola e si può ammirare così la bellissima catena montuosa della grand sassier abbiamo nascosto dei bigliettini perché come di consueto ormai diventa tradizione della casa alpina di dorno ci sarà questo pomeriggio al termine della polentata la caccia grossa un gioco che diverte molto i ragazzi l'impegna e allo stesso tempo permette a noi assistenti di stare un po' tranquilli almeno per circa un'oretta ladies and chesterfield the super king of the super the king of the stalloman si si a 10.000 metri dal tetto qui siamo in Montevarese il torero il torero il torero camomillo ci ha fatto prima sarei binato adesso arriva a Focusone che compro la penale ora ho observed cción questa qua è tutta per te paolo il primo piano della penale Montepenate Montepenano. E adesso, ritiro. Quello è Montevarese, un po' più in base. Pier, la testa del Pier è il suo monte. Luisa, pietà. Non ho pietà. Viste? Ma si fermate già, non sei già finita. Luisa. Luisa! Che agilità! I ragazzi di campagna, di montagna, sul trattore. Salute, sorridete. Ben finito. Un intero servizio fotografico. C'è che ce li ha. È la protagonista dei film. Oh, non li ha a mangiare, la porca di ceca. Hai usato mettere il sole. Giulia, avete spropriato il monte Varese. È vero, un interista, un infedele. Questa, io non li ha. Grazie! 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 Perché hai duecento! Grazie! Tu guardi bene? Sì! Guarda! 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 Un bel primo piano, un bel zoomata, di cristella, non è un botanico, non lo ricordo però ha un fiore protetto, coppietta, Carlo, e mi si taglia. Mi dà la rosina perché mi sono poverina, ci fa piangere, sospirare, mi fa piangere, sospirare sul letto della mente, mi fa piangere, sospirare sul letto della mente, mi fa piangere, sospirare sul letto della mente, cosa mai dirà il mare che cosa mai dirà di me. No, 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 no. No, 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 no. Eh, vabbè, ho detto una roba così. Ma non si ha queste cose della vostra età, fioi. Vai, vai. Per i nostri... La gimnastica della dottoressa... Carmen. O Carmencita. Mauro, dottoressa Tironi. Dottoressa Tironi, eh, mia nonna, mia. Mi nonna. No, ma siamo sicuri con me. La finuccia scala... No, 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 no. La modella. Volare! Volare! Oh, oh! Gattare! Che gimnastica! L'Alpetta, oggi abbiamo un fatto... Regiativa? Abbiamo cercato di muovere una roccia, ma purtroppo non si può. Ed è una là e una qui, fa vedere quella là. È roccia due! Roccia due! Roccia due! Oh, che roccia! Eh, buono, io sono inchiodato qui. No, lui è una montagna. E non mi schiodo. Eh, no, che non mi schiodo, non mi schiodo. Eh, no, che non mi schiodo, non mi schiodo. No, che non mi schiodo, no, che non mi schiodo. Siamo più forti! Ragazzi dal moretto! Sorridete! Ciao! È un'armonia di pace. E se sei forte, vivere felice, devi vivere qua giù. Ah, che... che compaglia! Ah, che tropezzo pulenta! Negli occhi tuoi c'è il sole. Mamma mia! Eh, Botticelli ha rischiato, eh! Io andiamo il po' al Paglione. C'è il Paglione, così. Paglione! Devi alzare il fondo schiena. Eh, oh! Dai, alza, alza! No, non filmarmi! Luisa, bisogna imparare ad alzare il 15 più 1. Come faccio? Ma pesa troppo! Io penso degli davanti al Paglione! Sai che tu parla Don Luigi, è la Luisea, eh? Sì, eh! Poi si scandalizza! Eh, no, cosa parla che il Luisea! Si scandalizza! Guarda, faccio il mio cuore e mi spommunico alla parrocchia! Ah, il sassi! Eh, ma andai insieme ad una forza! Madonna, va bene che lo sanno! Si ruina la schiena! L'occhio indiscutente della telecamera e continua a riprendere! No, la senterò la Luisea! Ma che? Ma don, ma cosa ti c'è mai? L'uccellino ha fatto pipì! Oh, no, su di lì! No! De Paoli che istruisce i suoi allievi! De Paoli fa le preferenze! Carme, vieni che la fai tu la capriola! Non tanto una ragazza perché ha recuperato alcuni piatti sbordi che era... Tenga, fai capire che hai troppo il versetto alzare! O il tretto! Sì, tutto il tretto! Eh, alza il tretto, sto tretto! No! Eh, è pesante! Grazie!